Il futuro dell'agricoltura lei come lo vede? Il futuro dell'agricoltura un agricoltore lo deve sempre guardare con ottimismo, altrimenti se si dovesse cedere soprattutto in questi momenti non facili allo sconforto credo che saremmo perduti, quindi ottimismo. È evidente che bisogna mettercela tutta, da tutte le parti, sia chi si occupa di agricoltura in termini pratici come facciamo noi e tanti altri, sia chi dell'agricoltura si occupa in termini istituzionali. Tra le maggiori aziende produttrici del Chianti, Colli Fiorentini, in teoria è la bandiera della nostra tipicità, della nostra tradizione, ma in realtà è una cultura dove l'innovazione gioca un ruolo determinante. Per le produzioni che si fanno in questa zona, che non è una zona da un punto di vista agricolo facile perché ha una topografia abbastanza movimentata, per noi è una sfida quella di riuscire a produrre. Abbiamo però questo territorio così difficile che però non è ripetibile e di conseguenza questo è il nostro patrimonio. È una risorsa. È una risorsa, è la risorsa, perché Merlot, Cavernet, eccetera, si possono produrre dappertutto. Chianti si può produrre soltanto qua, Chianti Colli Fiorentini anche. Il vino quest'anno celebra il record del Glesport, stiamo diventando sempre più bevuti nella tavola di tutto il mondo e il paradosso è che veniamo sempre meno bevuti in Italia. Dimostrare il valore di questa filiera, uscire anche dalla criminalizzazione dell'alcol, dimostrare che invece la tutela del vigneto è una cosa sostenibile per l'ambiente, per la nostra cultura, può far ripartire i consumi in Italia? Io credo di sì. Io credo che soprattutto perlomeno li può stabilizzare. Certamente se si guarda al passato, siamo partiti da 30-40 anni fa che avevamo un consumo pro capite di 120 litri pro capite all'anno. Forse troppi. Incluso bambini, eccetera, forse quelli erano troppi. Certamente a livello in cui siamo ora noi dovremmo cercare di mantenere stabile. Certamente dobbiamo conquistare nuovi mercati, cosa che non è facile perché anche i nuovi mercati cercano di conquistare noi. Certo, e la chiave può essere questa, sostenibilità e innovazione. Sì, ma soprattutto sostenibilità e innovazione e soprattutto vendita di quello che è unico del nostro prodotto, cioè territorio, tradizione.